Ben tornati all'appuntamento con le previsioni di MeteoOne. L'anticiclone cede lentamente il passaggio ad un flusso di aria più umida, proveniente dall'Atlantico, che nel corso della giornata si porterà sulle regioni centrosettentrionali, con l'aumento della nuvolosità ed il rischio di qualche debole precipitazione. Al sud, invece, le condizioni rimarranno stazionarie, con il continuo passaggio di fronti nuvolosi, ma privi di precipitazioni. Su tutta la penisola ci sarà un lievamento delle temperature. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per mercoledì 1 febbraio. Al mattino, tempo stabile, con nuvolosità in transito da ovest, ma senza precipitazioni. Saranno tuttavia possibili foschie nelle zone interne. Al pomeriggio, assenza di fenomeni su entrambe le regioni, cielo sempre tra il nuvoloso e il parzialmente nuvoloso, inserata a condizioni di tempo stabile ovunque e torna il rischio di foschie o banchi di nebbia. Le temperature risulteranno in ulteriore aumento, soprattutto nei valori massimi. I venti, tra il debole e il moderato, dei quadranti meridionali. Per quanto riguarda i mari, essi saranno da poco mossi a mossi. Per il consueto appuntamento con la foto del giorno, oggi ringraziamo il nostro telespettatore Oronzo Lavermicocca per averci regalato questo suggestivo scorcio di Polignano a mare. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di MeteoOne e Teleappula oppure alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per la visione!